Ciao, mi chiamo Bianca, ho 28 anni, sono brasiliana ma vivo a Milano. Lavoro come attrice e come modella e per via del mio lavoro ho sempre bisogno di tenermi molto in forma. Mi alleno, cerco di mangiare bene ma non è sempre facile comunque arrivare ai risultati che vogliamo e per questo mi sono recata al Centro Accelerazione Metabolismo che con la crioterapia mi sta aiutando a raggiungere i miei obiettivi. E allora io comunque cerco sempre di avere un'alimentazione bilanciata, mangiare sano, allenarmi quindi cerco di avere uno stile di vita sano però ad esempio ho difficoltà a bere tanta acqua e a smaltire i liquidi perciò vedo che c'è sempre un po' di ritenzione in alcune zone più specifiche del mio corpo. Quindi in generale sono una ragazza magra però ho alcuni punti specifici dove ho degli accumuli di grasso e di liquidi. Sono venuta con l'indicazione di un mio amico che ha iniziato a fare con il Centro un percorso e mi sono trovata molto bene perché ho avuto tante attenzioni dai diversi dottori che sono nel centro e che mi hanno spiegato tutti i pro dei vari trattamenti che ero interessata a fare e da subito ho già notato comunque un po' il mio corpo reagire. Vorrei iniziare una nuova terapia che ad onde ultrasoniche mi aiuterà a invece togliere del grasso localizzato del mio corpo. Principalmente nella zona fianchi che poi per il mio lavoro è una zona che deve essere sempre dentro qualche parametro e ho dei centimetri che vorrei perdere tutto qua.